Salve, in questo video parliamo dei menu in modo da completare la descrizione della finestra Programma. Continuate a portare pazienza. Il primo menu sulla sinistra è il classico File la cui prima voce è New Project e serve a impostare il lavoro che ci accingiamo ad iniziare. Clicchiandoci sopra o utilizzando la scorciatoia da tastiera N si apre la finestra Formato dove si possono impostare le caratteristiche audio e video. Per prima cosa si possono scegliere le preselezioni automatiche cioè dei parametri preimpostati. Questa scelta in teoria garantisce la massima stabilità perché sono scelte già collaudate ma in realtà anche scegliere una configurazione personalizzata dall'utente è ormai ampiamente stabile specie nella 5.1 che usa ffmpeg. Scegliendo di personalizzare si inizia con l'indicare il numero di tracce audio e il numero dei canali. Uno per l'audio mono, due per lo stereo e si può arrivare fino a 12 canali. Ultima scelta per l'audio è la frequenza di campionamento. I 48000 Hz di default vanno più che bene per la voce. Anche nella parte video si può scegliere il numero delle tracce con uno come impostazione predefinita. Poi si scelgono gli fps cioè i fotogrammi al secondo, la risoluzione del frame, le aspect ratio con la possibilità di farlo calcolare automaticamente a Sine Lerra. Poi ancora si può scegliere la modalità colore sia con canale alfa che senza e infine il modulo di interlacciamento. Una volta configurato il progetto sulla canvas della timeline compariranno il conseguente numero e tipo di tracce con le nostre impostazioni. Come si vede la scelta è fatta prima ancora di importare le clip come nella filosofia del programma a cui avevo accennato nel video precedente. Però se cambiamo idea in qualunque momento possiamo andare nel menu impostazioni e scegliere la voce formato per aprire una finestra analoga a quella appena descritta. Manca solo l'impostazione del numero di tracce che è già stabilito dalle clip presenti nella timeline. La seconda voce del menu è carica file che apre un file manager interno dove selezionare e importare le clip dentro Sinellerra. Sono tutte cose note a parte la casella in basso chiamata modalità inserimento. Data la sua importanza ci soffermeremo ad esaminare tutte le opzioni che offre. Sostituisci il progetto corrente. Importa la clip direttamente nella traccia cioè senza dover passare dalla finestra viewer eliminando qualunque clip vi si trovi. Se si importano più sorgenti ognuna creerà la propria traccia. Sostituisci il progetto corrente e concatena le tracce. Si usa se si importano contemporaneamente più clip che vogliamo ordinare una dopo l'altra sulla stessa traccia. Aggiungi nuove tracce. Inserisci ogni clip in una traccia vuota. Se sono già presenti delle tracce le clip verranno comunque inserite in tracce nuove create sul momento. Incolla nel punto di inserimento. Dobbiamo prima scegliere dove posizionare il cursore e poi la clip inserita in quel punto. Se abbiamo più clip vengano concatenate fra loro. Crea solo nuove risorse. È il metodo che consiglia di usare le prime volte. Importa le clip nella finestra risorse senza coinvolgere la timeline. Da questa finestra poi dentro la cartella media possiamo trascinare uno o più clip sulla timeline oppure faccio un doppio clic per visualizzarla nella finestra viewer. Fornirò più dettagli nel prossimo video. Nella 5.1 c'è un'opzione in più sequenza nest che però non ho ben capito e se qualcuno vuole spiegarmela benvenga. Le voci salva e salva come non perdo tempo a spiegarle. O meglio dirò che quello che viene salvato non sono le nostre clip editate ma solo le istruzioni che descrivono il nostro lavoro fino al momento del salvataggio. Il tutto dentro un piccolo file testuale di dimensione .xml. Tale file è di tipo idl cioè Edit Decision List e questa è una conseguenza dell'essere un software di montaggio non distruttivo cioè che non modifica le clip originarie che restano tali e quali anche dopo il rendering. Ogni volta che apriamo un file idl Sinelerra reimporta automaticamente le clip e ripete gli editing che vi abbiamo applicato riportandoci al punto in cui eravamo e permettendoci di continuare il lavoro. Continuando la lista delle voci di file troviamo Registro che è la brutta traduzione che sta per importare una clip direttamente dentro Sinelerra e direttamente dentro la finestra risorse. Questo si può fare da una fonte esterna cioè di registrarla in diretta per esempio da una webcam o una canzone tramite scheda audio o un segnale tv o ancora una voce in diretta tramite microfono eccetera. Non l'ho ancora mai utilizzata quindi non posso parlarne ma prima o poi lo farò e magari lo vedrete in un nuovo video. La voce successiva scan è collegata alla precedente e dovrebbe cercare un segnale televisivo da una scheda dvb io che non ce l'ho mi fa aprire una finestrella di errore. Subtitle è una novità della 5.1 e serve per mettere i sottotitoli ai dvd ma ancora non vale per i blu ray solo per i dvd. Mai usata questa funzione perché per ora non mi interessa produrre dvd o blu ray solo file memorizzati su l'hard disk. Elabora è la solita brutta traduzione della parola rendering. Come detto prima a salvare il progetto otteniamo solo un file idl. Se noi vogliamo fisicamente il file video che abbiamo montato con tanta fatica dobbiamo farne il rendering è il passo conclusivo ed essenziale di tutto il video editing ma io ho già detto e non ne parlerò in questi video rimandando magari a quando sarò più esperto. La voce esporta edl non so bene cosa sia e quindi non ne parlo. Elaborazione batch permette di schedulare varie edl e configurare i modi e i tempi di far partire il rendering. Non l'ho ancora mai usato per cui non ne parlo ma nei due manuali ci sono pagine su pagine di questo comando date la sua importanza e potenza quindi vi consiglio di leggerle. Bd render e dvd render penso che siano novità della 5.1 ma non ne sono sicuro mai usate per ora. Scarta edl è la brutta traduzione che sta per eliminazione dell'edl del progetto attualmente attivo. Ripulisci la timeline e anche la cartella media dentro risorse. Bisogna quindi essere sicuri di voler eliminare il nostro lavoro. Scarta plugins e non ho ben capito come funziona. Con carica backup e salva backup finiamo le voci del menu file. Conviene sempre salvare una copia di backup del nostro lavoro in modo che in caso di crash possiamo caricarlo e continuare tranquillamente il lavoro. In realtà a me non è mai capitato. Il salvataggio di un backup lo fassi nell'erra automaticamente per cui non c'è molto bisogno che lo facciamo noi manualmente. Magari prima di una fase che sappiamo delicata. Passiamo ora al secondo importante menu modifica. Annulla carica è la brutta traduzione che sta per l'operazione di annullamento dell'ultima azione effettuata. È il classico ctrl z di tutti i programmi. Solo che in sinorella è la semplice z senza bisogno di premere ctrl. Premendolo più volte si risale nella lista delle modifiche. Rifai, ripristina o ripete l'ultima azione. La scorciatoia è shift z. Taglia è proprio il classico ctrl x anche se per noi è solo x. C'è da notare che in tutti i software di montaggio si può tagliare o fare lo split di una clip per suddividerla in due. In sin e lerra non si può fare ed è un peccato perché a me piace. Però nel flusso di lavoro di questo programma non è affatto necessario perché si fa tutto con drag and drop o con cut and paste. Comunque c'è un trucco per ottenere una specie di split. Bisogna selezionare una regione interna alla clip e inserire uno spazio silenziato. Lo vedremo fra pochissimo come fare. Poi riavviciniamo le clip di destra a quelle rimaste. Avremo così le nostre due nuove clip splittate se mi permettete questa brutta parola. Aggiungo che in una nuova release della 5.1 è stato aggiunto lo split di una clip. Ne riparleremo nel video numero 10. Su incolla e cancella non c'è bisogno di dire niente mentre invece il successivo incolla silenzio è un concetto da capire bene. Incolla silenzio inserisce nella clip in corrispondenza di una nostra selezione uno spazio silenziato cioè uno spazio vuoto senza video né audio. Le clip successive si sposteranno di conseguenza. Siccome questo spazio deriva da una regione selezionata da noi significa che siamo noi a decidere le dimensioni dello spazio silenziato inserito. Regione muta è simile al comando precedente ma invece di inserire uno spazio vuoto sovrascrive la zona selezionata della clip con lo spazio silenziato. In questo modo trattandosi di una sovrapposizione e non di un inserimento le clip successive non saranno influenziate e rimarranno al loro posto. Avete capito bene la differenza fra incolla silenzio e regione muta? Bene, allora passiamo alle voci successive. Elimina selezione è una traduzione sbagliata che in realtà fa l'esatto contrario di quello che dice. Se si seleziona una regione della traccia il comando elimina tutto il resto tranne la nostra selezione. Quindi è un comando di trimming e non di eliminazione di zone selezionate. Già sappiamo che per eliminare una selezione basta usare il comando cancella o anche taglia. Seleziona tutto è il classico CTRL A che per si ne l'erra diventa la solita A. Shuffle modifiche è usato soprattutto per le tracce audio per creare delle vere e proprie playlist di canzoni. Prende l'ordine di successione delle clip e le riordina a caso. Ah già faccio notare che la parola modifiche sta per clip. Shuffle è una novità della 5.1 e anche le due successive voci cioè reverse modifiche che prende l'ordine delle clip e le riordina al contrario cioè dall'ultima alla prima. E allinea modifiche personalmente la uso spesso per cui perderò del tempo per spiegare bene il suo funzionamento. Prendiamo un sorgente composto da una traccia video e due audio e importiamoli nella timeline. Entriamo in modalità drag and drop e proviamo a spostare le tracce in una nuova posizione a caso. Le tre tracce si sono spostate contemporaneamente come se fossero unite. Si dice che appartengano allo stesso gruppo. Possiamo adesso disarmare la prima e la terza traccia lasciando armata la seconda. Spostiamo questa seconda traccia. Si muove solo lei perché le altre tracce sono disarmate. Ora riarmiamo tutte e tre le tracce e spostiamo la prima traccia video. Cos'è successo? Si vede che si è spostata la prima clip video e l'ultima clip audio ma non quella centrale. Eppure appartiene alla stessa sorgente e nella prima prova si era spostata anche lei. Il fatto è che Sinellerra tratta tutte le tracce importate nella timeline come indipendente scollegate da tutte le altre. L'unico caso in cui le considera una unità cioè un gruppo è quando i bordi iniziali della clip sono allineati. Da qualunque sorgente arrivino le clip se si ritrovano con l'inizio allineato allora si comportano come un gruppo. Capito bene? E' un concetto fondamentale in Sinellerra. Nel nostro esempio la clip audio centrale non era più allineata mentre la terza era rimasta allineata alla prima e si sono spostate insieme. Questo, ritorno a dire per l'ennesima volta, ci fa capire quanto sia importante sapere quali tracce devono essere armate e quali no. Il guai è che il programma non ha aggancio magnetici come gli altri programmi e quindi riuscire ad allineare le clip non è affatto facile. Il comando allinea modifiche serve proprio a questo. Si selezionano interamente le clip che vogliamo allineare e si applica il comando. L'allineamento sarà automatico e preciso. Attenzione però, la selezione deve comprendere le clip interamente e non toccarle solo parzialmente. Un altro problema che riguarda però tutti i programmi di video editing è che può capitare che un video registrato mostri le tracce audio di lunghezza leggermente diverse da quelle video. Può dipendere per esempio dal fatto che il camcorder registra 29,97 fps mentre il progetto lo abbiamo impostato a 30 fotogrammi per secondo. Ma anche se le impostazioni sono giuste il camcorder potrebbe non essere molto preciso nella gestione di fotogrammi al secondo. Se concateniamo più clip con queste differenze il problema non fa altro che ingigantirsi perdendo la sincronia audio video. Taglierò via una parte di audio per mostrare l'effetto con evidenza. Selezionando tutte queste clip e applicando il comando allinea modifiche allineerà tutti gli inizi delle varie clip riempendo le discrepanze con spazi silenziati. Così anche le clip seguenti diventano allineate. Fantastico non è vero? La voce seguente del menu modifica cioè transizione lunghezza riguarda la durata dell'effetto di transizione che abbiamo messo fra due clip. È più comodo però fare clic con il destro sull'icona della transizione per ottenere lo stesso campo di immissione. Transizioni non so a cosa serve. Cancella etichette lo abbiamo visto nel video precedente. Cut annunci non so cosa sia. Paste subtitle non l'ho mai usato e quindi non so come funziona. Il menu fotogrammi chiave lo descriveremo successivamente quando introdurremo il concetto fondamentale dei keyframe nel video 9. Il menu audio presenta la voce aggiungi traccia la cui scorciatoia è T. Serve per introdurre tracce audio vuote al di sotto di quelle presenti modificando così il progetto. Aggiungi transizione predefinita mette la dissolvenza come transizione fra due clip audio dove è posizionato il punto di inserzione. Mappa 1 2.1 e mappa 5.1 2.2 ne riparleremo nel prossimo video dovete avere pazienza per sapere cosa sono. Attaccare transizione apre una finestra dove sono elencate tutte le transizioni audio che in realtà è solo una la dissolvenza o fader. Attaccare effetto apre la finestra con la lista di effetti audio che possiamo aggiungere alle nostre clip. Sono 37 effetti classici più una cinquantina nella 5.1 di effetti l'ad spa. Elabora effetto fa il rendering della sola clip interessata dall'effetto. Funge così da anteprima ma dal risultato reale c'è una piccola nuova clip video per vedere il risultato finale dell'effetto. Siccome le clip non sono in genere lunghe allora il rendering risulterà veloce e pratico. Questo in teoria perché non mi funziona o meglio non ho capito come usarlo. Nel menu video ci sono le stesse voci del menu audio a parte le mappature che sono valide solo per le tracce sonore. Non mi metterò a spiegarle tranne dire che la scorciatoia da tastiera per aggiungere una traccia video è Shift T e la transizione predefinita è ancora la dissolvenza questa volta video ovviamente. Il menu tracce permette di spostare le tracce esistenti in alto in basso, di eliminarle, di concatenarle, di aggiungere una traccia per i sottotitoli. Vedremo in un prossimo video la concatenazione di tracce perché è un concetto sofisticato e importante. Il menu impostazioni presenta alcune voci che abbiamo già visto come per esempio il comando formato. Altre voci le vedremo meglio in seguito come per esempio preferenze. Per le altre voci che sono rimaste passo oltre non ne parlerò. Salto anche il menu visualizza e il perché lo vedremo tra pochissimo. Arriviamo quindi all'ultimo menu chiamato finestra. Da questo menu possiamo portare e rendere visibili su schermo le finestre dell'interfaccia che avevamo eventualmente chiuso cioè le finestre viewer, compositore e la finestra risorse. Oltre a queste tre finestre ne porta alla vista anche un'altra che si chiama mostra sovrapposizioni che serve a disegnare sulle tracce delle curve di editing tipo fader, velocità e altre. Le curve sono molto importanti nell'editing video specialmente associate a fotogrammi chiave quindi le vedremo successivamente. Notare che questa finestra staccabile riporta tutte le voci del menu visualizza e visto che è di uso più comodo consiglio tenere aperta mostra sovrapposizione come faccio io invece di andare ogni volta alla specifica voce nel menu visualizza. Altre voci sono split x e y che abbiamo già visto e mixer viewer che non vedremo in questa serie di video. Posizioni predefinite serve invece a riportare l'interfaccia alla configurazione standard caso mai avessimo cambiato la loro posizione e volessimo ora ritornare indietro. Tile destra e tile sinistra non le ho mai usate. Siamo riusciti ad arrivare in fondo a questo terzo e ultimo video dedicato all'interfaccia di CineLerra perché ci siete riusciti vero ad arrivare fino a un fondo intendo. Nel prossimo video cominceremo l'editing. Grazie a tutti. Grazie a tutti.